Nonna Vaniglia Nonna Vaniglia vive nel paese dei Canditi, in via delle Ciambelle. Nonna Vaniglia è bravissima a fare dolci. La casa di Nonna Vaniglia è fatta di biscotti. Nel giardino di Nonna Vaniglia crescono lecca-lecca la fragola. Nonna Vaniglia ha una nipotina che si chiama Marta. Ogni sabato Marta va a trovare la nonna. Oggi Marta è molto preoccupata. Il gatto Birillo è scomparso. Marta pensa che Birillo si sia arrampicato su un albero del parco e che non riesce più a scendere. Il parco è molto grande. Per cercare Birillo ci vorrebbe un aeroplano. Niente paura. Nel libro dei dolci di Nonna Vaniglia c'è la ricetta giusta. Ricetta dell'aeroplano di pasta frolla. Ingredienti. Burro, uova, zucchero, farina, un pizzico di lievito magico. Cuocere in forno ben caldo. L'aeroplano è pronto. È un aeroplano molto speciale. Non ha bisogno di benzina, ma di marmellata. Nonna Vaniglia e Marta volano sopra il parco. Marta dice, non vedo Birillo. Si è fatto sardi. È ora di tornare a casa. Marta è molto triste. Nonna Vaniglia prepara una torta per consolare Marta. Nella dispensa c'è qualcuno che sta arrossando. È Birillo. Birillo ha mangiato tutte le torte di Nonna Vaniglia. Che gioia! Bisogna festeggiare. Ma Birillo, niente torta! Ciao!